Bella ragazzi qua il Chiotto, purtroppo una bruttissima notizia in casa Lazio, dobbiamo parlarne anche se preferirei sempre non farli questi video, bisogna oggi parlare di quello che è successo dopo Lazio-Inter, quindi vedete che anche dopo una vittoria non riusciamo a goderci veramente nulla. Già siamo spesso sotto attacco dei giornali, però se ce l'andiamo anche a cercare ragazzi allora siamo proprio stupidi masochisti, ok? Parliamo di Juan Bernabé che è il padrone, diciamo il papà dell'Aquila Olimpia, quello che la fa volare, il suo maestro, persona che io ho conosciuto tra l'altro, perché quando ci invitarono tramite Marathon Beta a Formello, a me, ad Alfreds, a Stefano, ad altre persone, altri influencer diciamo della Lazio, e abbiamo fatto una lezione con lui, una persona fantastica, ci spiegò tutto dell'Aquila, la difficoltà che ha l'Aquila nel volare allo stadio, quindi adesso quello che dirò sicuramente non va a condannare la persona, ci mancherebbe, perché io ho percepito comunque di una bravissima persona, poi chi ama gli animali di solito, beh è un luogo comune, però comunque una persona buona di cuore e poi comunque nella vita si sbaglia, ci mancherebbe. Poi ci sono errori e errori, sicuramente quello di Juan Bernabé è grave, è grave perché si sa che molti tifosi della Lazio hanno quei valori lì, quell'idea lì, politica purtroppo che non mi appartiene, poi per carità ognuno è libero di avere la sua idea, Però ecco, dopo Lazio Inter è stato filmato appunto Juan Bernabé a fare il saluto romano, adesso vabbè vi metterò anche un'immagine per contestualizzare il tutto, ma io dico qua scemo più scemo, perché lui scema a fare questo gesto, che poi alcuni dicono, magari non sa cosa vuol dire, ma, ma, cioè ragazzi dai, non prendiamoci in giro, A parte che è un saluto che conosce anche un bambino, più o meno, poi magari non sa cosa c'è dietro, però comunque, signore di, se non lo so, di 50 anni, che fa un gesto così, penso che sia consapevole di cosa stia facendo, quindi stupido lui, prima di tutto. Però mi chiedono, quello che l'ha filmato, sarà bene un tifoso della Lazio? E poi l'ha pubblicato sui social? Cioè adesso è un video virale, se voi cercate anche solo Juan Bernabé, che fino a ieri, lo conoscevamo io e mia, e sua mamma, chi era, adesso il messaggero, fanpage, la gazzetta dello sport che non vedeva allora, scandalo in casa Lazio, eccetera. Comunque è arrivato adesso il comunicato poco fa della Lazio, lo andiamo a leggere, saltiamo le prime righe che vanno tutte a fare, diciamo, un preambolo, e la parte su cosa, sottolineata di nero, che a noi interessa è la seguente. Pertanto, appresa l'esistenza del video, che già avrete visto, comunque basta che lo cercate su YouTube, su Google, che ritrae Juan Bernabé, che non è tesserato della Lazio, attenzione, è una ditta esterna, però comunque rappresenta la Lazio, anche perché poi porta, diciamo, in mano il simbolo della Lazio, che è l'Aquila, è chiaro, quindi è molto grave. Non tesserato e dipendente di una società esterna, come detto alla Lazio, in atteggiamenti che offendono la società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira. Sono stati presi provvedimenti nei confronti della società, non Lazio, la società di Juan Bernabé, finalizzata all'immediata sospensione dal servizio della persona interessata e all'eventuale risoluzione dei contratti in essere. Quindi adesso poi vedremo cosa succederà, io spero poi venga reintegrato, perché comunque è uno che è da tanti anni con noi, a sostituirlo ci sarà il fratello, José Maria, che aveva già ricoperto questo ruolo in passato in occasione di Lazio-Milan, addirittura nel 2010-2011. Però ripeto ragazzi, qua ci facciamo male da soli, quindi non possiamo neanche adesso attaccarci alla Gazzetta o a quelli che ci prendono spesso di mira, perché in questo caso ne hanno ben donda. Alla fine loro devono vendere i giornali, devono fare i click, eccetera, e quindi adesso la Lazio è sulla bocca di tutti, siamo sulle prime pagine di tanti giornali, come non accadeva da tanti anni. A me piacerebbe essere sulle prime pagine, nei titoli grandi, per risultati prettamente di campo, sportivi, ed è quello che io poi ho sempre portato sul mio canale. Io qua sul mio canale ho sempre lasciato da parte le idee politiche, le altre cose, ma a me piace parlare di calcio. Perché è quello che ho sempre voluto fare e soprattutto poi quando si parla di Lazio ancora di più. Quindi ripeto, io non voglio condannare la persona, perché l'ho conosciuta, siamo stati, abbiamo fatto un meeting di un'oretta, ci ha spiegato tutto, abbiamo fatto la foto. Adesso non l'ho trovata qua sul computer, sennò ve la mettevo in sovraimpressione, però forse se... Anzi, vi lascio il link magari del video qui sotto in descrizione di quando sono andato a Formello e mi pare che c'è anche la foto con lui, quindi una persona secondo me veramente squisita. Si sbaglia tutti, certo ci sono errori e errori, quello a mio avviso è un errore grave, che è comunque da condannare e da punire. Ok, quindi io prendo anche io le distanze da questo gesto di Juan Bernabé, non condanno la persona, condanno però il gesto nel contesto sbagliato. Signori, io vi saluto, vi ringrazio, voglio sapere la vostra. Passate da Instagram in descrizione, sei calcio, anche lì per maglie, tute, calzini, calzettoni e da calcio di tutte le squadre, stagione 21-22. Signori, vi saluto, vi ringrazio e sempre forza. Grazie.